Quale società è stata la maledetta? Quella necessariamente imperfetta, illuminata dal Dio, e quale questa senza? Quale società è diventata la supponente, quella che confonde gli amici dai nemici, gli uomini con le scimmie, le bestie, gli inferni? Quale società quella delle estranee cose, di queste mai prese sul serio o mai influenti, quella delle sostanze deficienti, presuntuose, che vogliono comandare sulle coscienze? Quale società quella delle demenze indotte o di chi se ne fotte di tutto tranne che di loro? Quale sarà quella del futuro, senza leggi e lavoro, del domani andato a ricercare ancora l'oro, indefessa? Non darà scampo persino a se stessa.